Un acquario senza pesce, se lo vuoi, viene alla cornetteria, al bacio a cioccolato, lo vuoi? Se non lo vuoi, io lo concedo, lo vuoi? Te lo do per Castello di Sangre, lo vuoi per Castello di Sangre, lo vuoi per Benafro, per Roccarasco, come lo vuoi? Se lo vuoi, me lo dici, io te lo do, un acquario senza pesce, te lo do al bacio a cioccolato, te lo do a cornetteria. Se non lo vuoi, tu me lo puoi sapere, io lo concedo, lo vuoi? Io lo concedo, se lo vuoi me lo sapere, te lo do sotto il dito di cartone, te lo do a Roccarasco, per Castello di Sangre, lo vuoi per Castello di Sangre, lo vuoi per Popolis, sul buono? Lo vuoi un acquario senza pesce, se lo vuoi, me lo puoi sapere, te lo do a cornetteria, a bacio a cioccolato, te lo do sotto il dito di cartone, Vai a Don Nicola, te lo do a cioccolato, a cornetteria, te lo do a bacio a cioccolato, a cornetteria, vai a Don Nicola, vai a Don Nicola, vai a Don Nicola, te lo do a cornetteria a bacio a cioccolato, se non lo vuoi, tu me lo fai sapere, un acquario senza pesce, io lo concedo, lo concedo stabilito, lo concedo a contratto obiettivo, lo vuoi con la penalità, se non me lo puoi sapere io te lo do a scornetteria a cioccolato a pace te lo do con la partita iva lo vuoi con la partita iva